Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova recensione delle applicazioni consigliate da Marcosbox per i vostri tablet e smartphone Android. In questa puntata andremo a vedere un'applicazione chiamata One Calculator. Come lascia presaggere il nome si tratta di una calcolatrice, una calcolatrice scientifica che oltre a fare però da calcolatrice fa anche tanti tipi di operazioni che possono essere utili sia alla classica casalinga di voliera o nel mondo lavorativo o anche allo studente che si ritrova a dover lavorare, fare i compiti e quant'altro. Andiamo a vedere subito l'applicazione all'interno del PreStore. Cerchiamo One Calculator, eccola qui. L'applicazione è stata sviluppata da Pierfrancesco Soffritti, uno sviluppatore italiano e è stata realizzando il materiale design, quindi si integra perfettamente con Android Logi ed è completamente gratuita. Non presenta banner pubblicitari, il formato di finanziamento, se così si vuol dire, dallo sviluppatore viene dalle vostre donazioni che potete fare di vostra spontanea volontà. potete fare in due maniere, o effettuando una donazione diretta oppure acquistando uno dei due temi che attualmente sono stati aggiunti all'interno dell'applicazione, due temi a pagamento che potete appunto comprare e favorirne così, diciamo così, come forma di donazione per il vostro sviluppatore. Andiamo subito a vedere One Calculator, andiamo ad agganciare, come potete vedere ho tante calcolatrici sul mio smartphone. Ecco qua come si presenta One Calculator una volta avviata. Questa è l'interfaccia standard della calcolatrice, possiamo fare le nostre operazioncine 89 per, sviluppando verso sinistra otteniamo le funzioni seno, coseno, tangente e altre funzioni, che ne so, facciamo per il seno di sé, andiamoci a fare i calcoletti, vi faccio vedere perché vi sto facendo tanti calcoletti, adesso capirete il perché. Allora, come potete vedere, all'interno dell'applicazione è possibile avere uno storico del, questo è intanto il pop-up della funzione tutorial che ogni tanto si attiva, è possibile avere uno storico di tutte quante le operazioni che noi siamo andati a effettuare, ad esempio che abbiamo fatto all'inizio, il 25x6, vi è possibile quindi tappandoci sopra andare a ripescare il risultato. Questa, diciamo così, questa funzionalità è possibile ulteriormente potenziare cliccando sui tre pallini e cliccando su operazioni passate. In operazioni passate verranno mostrate tutte quante le operazioni che abbiamo fatto, che sono delle operazioni che abbiamo visto anche all'interno del menu precedente, con informazioni più dettagliate, perché abbiamo informazioni sull'orario, di quando è stata fatta la data, tappandoci sopra è possibile avere informazioni aggiuntive. Ci viene mostrata l'operazione fatta, il risultato, possiamo aggiungere un separatore, possiamo copiare l'espressione, possiamo copiare soltanto il risultato, oppure cancellare l'operazione. Andiamo a prendere espressione, prendendo espressione l'operazione viene riportata all'interno della calcolatrice, come se fosse un calcolo appena inserito. Cliccando accanto all'icona con i tre pallini è possibile passare nella calcolatrice con la modalità avanzata, con appunto alcune funzionalità come gli esponenti e quant'altro. Poi sul panto verso sinistra, voi potete vedere c'è la sommatoria integrale, quindi una calcolatrice scientifica avanzata, quindi utile anche se fate calcoli di altra natura, i semplici calcoli, diciamo così. Naturalmente l'interfaccia ruota in landscape. Passiamo adesso al calcolo matriciale. Facciamo una matrice semplice semplice, facciamo una 3x3, se no ci andiamo a ammazzare, a mettere i valori qua, non la finiamo più. Anzi, una matrice, come direbbe il mio professore dell'università, chi ha fatto il Politecnico di Bari sa chi mi riferisco e ci fa, date una matrice, quadrate, 2n, non mi esce tanto bene più l'imitazione, adesso ho passato tanto tempo. Mi picchierà il professore se sentirà questa imitazione. Allora, come potete vedere abbiamo inserito i valori delle due matrici, abbiamo fatto due matrici 3x3, cliccando sul tasto Trova, che cosa possiamo fare? Calcolo del determinante, sia della matrice A che della matrice B, calcolo degli autovalori e degli autovettori, somma delle matrici, quindi le varie operazioni somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, addizione, calcolo delle matrici inverse, calcolo del rango, calcolo della trasposta, calcolo della traccia, decomposizione di U, eccola qui, decomposizione di U, in questo caso non si può fare perché la matrice non è definita, la decomposizione QR, e la decomposizione ha i valori singolari. Come potete vedere, vi faccio vedere il pop-up che viene fuori con i calcoli, è molto molto bello, molto accattivante, quindi è di facile anche lettura. Passiamo adesso all'altra funzionalità di questa OneCalculator, ovvero la conversione. Andiamo in unità e andiamo a vedere i vari tipi di conversione che possiamo fare. Lunghezza, volume, peso, aria, densità, pressione, angolo, velocità, accelerazione, temperatura, tempo, corrente elettrica, energia, potenza, forza, luce, radioattività, lunghezza d'onda, momento torcente, dimensioni dati, che ne so, per esempio, vogliamo andare a calcolare il classico, la lunghezza, che ne so, vogliamo sapere, che ne so, i pollici in centimetri, adesso vogliamo far sapere quanti sono monitor da 22 pollici, sono 55,88 centimetri, come potete vedere, conversione rapida, i valori sono ben esposti, possiamo scorrere, traverò praticamente tutto quello che ci può interessare di questo tipo di calcoli, è possibile invertire i campi, per esempio, abbiamo fatto da pollice a centimetra, vogliamo fare da centimetra a pollice, pigiamo su questo tasto, con le due freccette, e invertiamo i campi di calcoli. Passando a un tipo di unità base, è possibile fare da deck, bin, octagonali e decks, quindi potete fare tutto quello che volete. Funzionalità grafico, è possibile tracciare dei grafici, detto in maniera rapida e concisa, inseriamo le nostre funzioni, pigiamo su disegna, ed ecco qui che ci viene fuori il nostro grafico, possiamo zoomare sul grafico, tornare indietro con i tastini più e meno che abbiamo sopra, o effettuare il classico pitch to zoom. cliccando su reset viene reimpostato lo zoom, diciamo così. Andiamo nelle impostazioni e andiamo a vedere le impostazioni, diciamo così, avanzate. Possibilità, come vi ho detto, di supportare lo sviluppatore, ci sono due modi. Possibilità di acquistare, diciamo così, pigiamo sul maialino, di effettuare una donazione, quindi potete donare direttamente i soldini, o possiamo comprare un tema. Troviamo il tema default, quello gratuito, diciamo così, che è quello chiaro che abbiamo visto fino adesso. Poi possiamo avere altri due tipi di temi, quello Android Lollipop, ci viene mostrato l'anteprima del tema, o quello Dark, per tutti gli amanti, le tonalità completamente scure, che mi fanno venire una depressione, che non vi dico, vabbè. Però se avete un display con i Super AMOLED, so la morte l'oro. Acquistando questi temi darete un contributo allo sviluppatore, quindi che potrà avere un ritorno economico e perfezionare ulteriormente l'applicazione, che vi ricordo, appunto, è comunque gratuita, quindi se avete comunque la possibilità, non fate i tirchietti, fanno una donazione, ho acquistato un tema, e così da supportare nello sviluppo. Possibile impostare la vibrazione, per quanti millisecondi, la vibrazione quando andiamo a pigiare i tasti, disabilitare la rotazione dello schermo, mantenere lo schermo sempre acceso, attivare la modalità a schermo intero, che va praticamente a nascondere le informazioni di rete del nostro smartphone, abilitare e disabilitare le animazioni, riattivare il tutorial che ci fa vedere tutte e quante le varie funzionalità, abbiamo possibilità di personalizzare anche le impostazioni della calcolatrice, abilitando il separatore della migliaia, nascondendo all'interno della calcolatrice, l'interfaccia principale della calcolatrice, le operazioni passate, nascondendo i tasti MCMR e quant'altro, aumentare la precisione, quindi il numero di decimali. Cliccando su About, invece, abbiamo le informazioni sullo sviluppatore, è possibile contattarlo, cioè il suo contatto su Google+, condividere le applicazioni con i nostri amici e quant'altro. E ovviamente, anche in questo caso c'è il maglialino per effettuare una donazione. Che dire, a me piace questa applicazione perché non è appunto soltanto una calcolatrice, ma fa anche di più. E' quella classica applicazione che non può mancare sul vostro smartphone, perché grazie a questa applicazione è utile in tantissimi frangenti. Vi trovate spesso a dove fare delle conversioni a vuro, non vi ricordate bene come si fanno, e appunto potete fare in pochi passaggi con questo. Se siete di studenti potete calcolare matrici in pochissimo tempo, appunto, quindi è utile anche per voi studenti, sia matrici che calcoli grafici di funzioni. A me piace, io mi sento di consigliarla, installatela, provatela per un po'. Ditemi soprattutto la vostra, che cosa ne pensate di questa applicazione calcolatrice, lasciando un commento o qui in calcio al video, o nel post connesso sul blog. Con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo alla prossima video recensione, e bye bye!